Sulla scia delle direttive europee circa l'agricoltura sostenibile, secondo la decisione della Germania di interrompere gli incentivi fiscali sul gasolio agricolo agevolato, la CIA Chieti-Pescara fa il punto sulle difficoltà di tutto il comparto regionale abruzzese, andando a sottolineare come gli incrementi vertiginosi pesino gravemente sul bilancio delle aziende agricole e l'inalzamento dei prezzi metterebbe a rischio la sostenibilità economica dell'intera regione. Per ora l'Italia non sembra essere coinvolta dal provvedimento, ma la normativa vigente e le agevolazioni per il gasolio agricolo potrebbero presto scomparire. Nel 2026, come sottolineato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, sarebbe prevista una revisione dei contributi, perciò è probabile un ridimensionamento del sussidio per il gasolio agricolo agevolato, poiché considerato dannoso per l'ambiente. Questa misura rappresenterebbe una minaccia alla sostenibilità economica delle aziende agricole e Domenico Bomba, presidente CIA provinciale Chieti-Pescara, sottolinea come un dialogo costruttivo tra il governo italiano e i rappresentanti del settore agricolo sia fondamentale al fine di non incentivare gli agricoltori ad abbandonare le zone rurali.